Sono così rare le occasioni per ascoltare l'opera lirica dal vivo in Abruzzo che ogni melomane che si rispetti non può che approfittarne e così quando il marruccino chiama il pubblico risponde ed è proprio partendo dal successo delle precedenti stagioni che l'istituzione teatrale presenta le opere in programma nella prima parte della stagione. Tre appuntamenti tra ottobre e dicembre e un'anteprima il 30 settembre con la collaborazione della Scuola dell'Opera del Teatro Comunale di Bologna. Si comincia con la serva padrona il Giovan Battista Pergolesi, poi gli intramontabili la Tosca, il Trovatore e il signor Bruschino. Apriamo e chiudiamo con allegria, con un intermezzo buffo all'inizio tra l'altro che prevede anche un'opera contemporanea del maestro Tarabella, la serva padrona e il servo padrona con tanti giovani, tanti artisti abruzzesi, alcuni grandi nomi dei direttori d'orchestra importanti e qui sul palco del Terramorcino l'ultima opera sarà diretta da Alessandro Mazzocchetti, un direttore d'orchestra giovanissimo ma abruzzese del quale siamo molto orgogliosi. Anche innovazione, quest'anno avremo un po' di innovazione perché ad esempio il Trovatore vedrà una regia che prevede delle proiezioni in 3D importanti su una scenografia bella che saprà a sorprendere il pubblico però attraverso l'utilizzo di mezzi d'avanguardia mantenendo però sempre il rigore artistico e tradizionale dell'opera. È stata una straordinaria stagione a tutto tondo nel 2022 dove abbiamo avuto record mai visti prima in questo teatro per la prosa, stessa cosa per la lirica dove veramente è stato un successo sia in termini di partecipazione sia in termini di critica. Noi siamo riusciti con grande sforzo da parte della deputazione nel far quadrare le previsioni di bilancio e quindi gli incassi, siamo riusciti a mantenere fermo il costo del biglietto nonché il costo degli abbonamenti. Siamo andati incontro alle esigenze della nostra città e dei nostri affezionati clienti i quali ci tengono a frequentare questo teatro e a portarlo nel loro cuore. Per la prima volta ma non credo sarà l'ultima abbiamo la Chieti Calcio che ricordiamo 1922 quindi attività ultracentenaria della città sulle tre maglie quella nero verde che sarà la prima ovviamente quella bianca e quella rossa che sono le altre due maglie d'ordinanza avranno come sponsor Teatro Marrucino con il logo e la scritta. Due attività ultracentenarie il teatro 204 anni, il Chieti 102 anni che insieme porteranno il nome di teatro su tutti i campi della Serie D.